Ma cos'altro? 3 luglio, due constatazioni e una domanda. Innanzitutto rallegramenti al Presidente della Vista Sol, nuovo Presidente del Parlamento europeo. Poi la Commissione ha deciso di non raccomandare la procedura di inflazione nei confronti dell'Italia. Eppure una domanda sorge spontanea. Ce lo daranno a questo punto il Commissario europeo economico di peso che avevamo chiesto. Ma cos'altro?